Quindi cerchiamo di leggere questo fenomeno con un altro fenomeno che si è verificato proprio oggi dei terremoti in Albania, dei forti terremoti. Vediamo qui c'è la mappa sismica, abbiamo un allarme di terremoti in Albania. Quindi noi diciamo è possibile che questo sprofondamento sia collegato a questo terremoto? Diciamo per la tettonica traslaciale sì, cominciamo a analizzare l'Albania. Vediamo che l'Adriatico ha un profondo solco. Secondo la nostra analisi questo solco è stato scavato dall'onda del 1200 a.C. Quindi questa è la nostra ipotesi geologica, diciamo, escatologica. Quindi nel 1200, nel 1170 la Terra si è fermata per un giorno, così sembrerebbe, e i mari hanno avuto dei fortissimi sommovimenti e qui è entrata una lingua. Però questa lingua ha scavato una specie di solco per almeno mille metri. Quindi sostanzialmente qui ci sono mille metri di profondità ai confronti del radiatico che è solo 100 metri. Quindi è una zona più sensibile al peso dell'acqua. Anzi, questi mille metri potrebbero essere stati provocati dal maggiore peso dell'acqua che si è creato dopo quest'onda. E quindi se questa zona è più sensibile, i terremoti che sono verificati qui potrebbero essere dovuti al sollevamento compensatorio. Qui vediamo che ci sono delle catene montuose che, secondo la nostra teoria, potrebbero essere dovuti alla Terra che si è sollevata come compensazione a questo sprofondamento. Quindi è una specie di usci materasso ad acqua, qui c'è maggiore peso e qui si solleva. Quindi in realtà sono da tenere questi eventi e soprattutto c'è da tenere sotto osservazione questa acqua alta che teoricamente dovrebbe essere dovuta a venti da sud nord-ovest o da sud-ovest e a condizioni di pressione, ma che in realtà sono giorni che non sembra diminuire. E poi in realtà ci sono allarmi di livello più alto anche in giro per l'Adriatico. Quindi stiamo a vedere, chi vuole può osservare questo sito per togliersi la curiosità, se questa differenza tra la marea prevista e quella di acqua alta si azzera, come dicono le previsioni, o continua a rimanere di 25 centimetri in più, che significa che praticamente quasi tutti i giorni, con 115 di quota, l'acqua entra a Piazza San Marco.